E' molto più importante fare ginnastica che stare tutto il giorno a fare eni mistica Stretching, aerobica, il fisico è in festa, tutti in palestra 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 Non ci sono grassi né magri né brutti, ginnastica vuol dire divertirsi tutti Si suda con la musica da fuori di testa, tutti in palestra 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 Partiamo Tutti in palestra